Buongiorno, bentornati a Coffee Break. Allora, mettiamola così, nonostante le dichiarazioni pubbliche sui giornali, in televisione del Presidente del Consiglio Conte, dei Vice Premier Salvini e Di Maio, ci è un po' di maretta tra gli alleati di governo, ci sono diversi distinguo. Intanto il provvedimento con cui avremmo poi visto nero su bianco, reddito di cittadinanza e quota 100, è slittato l'esame di questo provvedimento, di questo decreto, al Consiglio dei Ministri della prossima settimana. Sembra perché la ragioneria dello Stato deve ricalcolare alcune cose dopo che c'è stato l'annuncio da parte di Di Maio di ampliare la platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza anche a chi riceve pensioni di invalidità, che è una richiesta pressante della Lega. Però poi ci sono altri fronti, pensiamo alla linea d'alta velocità, Torino-Lione, TAV, insomma, le posizioni sono note, Di Maio ha ribadito che noi siamo contrari a quest'opera, mentre Salvini dice che sono favorevole a tutte le grandi infrastrutture e se dall'analisi costi e benefici dovesse arrivare una bocciatura, allora facciamo un referendum. C'è un contenzioso, mettiamola così, anche sulle trivelle. Insomma, questa è la situazione. Adesso faremo il quadro delle cose successe nelle ultime ore con Francesco Bardaro. Intanto voglio dare il bentornato a Emilio Carelli, deputato del Movimento 5 Stelle, giornalista. Allora, voglio chiederle una cosa, voglio chiederti anzi, perché ci diamo del tu per consuetudine. Voglio chiederti una cosa, sono soltanto ricostruzioni giornalistiche, spifferi giornalistici, cattiverie di chi è contrario al governo giroverde o in effetti, in vista anche delle elezioni europee che si avvicinano a grandi passi, insomma, si ampiano le differenze tra i due contraenti di governo? No, più che si ampiano, diciamo, ci sono un po' sempre state, perché il Movimento 5 Stelle e la Lega su alcuni temi, alcune situazioni hanno avuto sempre posizioni anche diverse. Cioè, questo governo attraverso un contratto che è stato stilato nel momento in cui veniva formato ha trovato dei punti d'incontro su alcuni punti e questi stiamo portando avanti. Quindi, diciamo che i giornali magari qualche volta amano fare titoli che ha un po' d'effetto, ma questo è stato il nostro lavoro sempre, insomma. Però, quello che nella sostanza è vero è che, dopo il vertice dell'altra sera, è stata ritrovata una certa unità. Perché qualcuno oggi scrive ancora che Salvini è infuriato con Conte, al di là delle dichiarazioni ufficiali? Ah, non mi risulta, perché Conte stesso ha fatto poi ieri una dichiarazione in video dove riconferma la linea dura, la linea ferma di fermezza del governo contro gli sbarchi. Quindi non è cambiato nulla. Cioè, la posizione, per esempio, prendiamo la posizione sull'immigrazione clandestina, resta sempre una posizione di grande fermezza. Al di là del caso contingente dai 49 clandestini sbarcati a Malta e poi ridistribuiti fra otto paesi europei. Ma anche quello, a mio parere, è stato un successo, perché il discorso di corresponsabilizzare tutti i paesi europei, in questo caso siamo riusciti solo con otto paesi, ad assumersi la responsabilità dei clandestini che arrivano dall'Africa, è comunque un discorso condiviso e fa parte della politica del governo. Vedremo se anche poi le dichiarazioni di ieri del commissario europeo dell'immigrazione che ha detto che siamo pronti ad aprire un tavolo col governo italiano sortirà a qualche effetto in un'Europa che, diciamocelo francamente, è stata cieca e sorda alla questione migranti. Do il bentornato a parlare a Tommasi di Libero. Buongiorno. Se ti dovessi chiedere un titolo sulla congiuntura proprio attuale, lo stato di salute del governo giallo verde, cosa mi rispondi? Più cercano di tranquillizzare, più nascondono malintesi fra loro. E adesso non solo ci sono le divergenze valoriali o di programma, si è messo in mezzo anche un presidente del Consiglio un po' più protagonista rispetto all'inizio, quindi una terza persona che porta ancora più confusione. Perché tutto quello che è successo negli ultimi giorni, diciamoci la verità, deriva da Carige. C'è stato questo Consiglio dei Ministri, Lampo, di notte, in cui il presidente del Consiglio ha avuto un ruolo anche abbastanza centrale ed era finito in mezzo alle polemiche. Per distogliere l'attenzione su Carige ha detto vado a prendere i migranti anche in aereo, scatenando le ire di Salvini. Quindi facendo passare in secondo piano il tema del salvataggio di una banca rispetto all'immigrazione. E Salvini, davanti a questa dichiarazione di Conte, li vado a prendere in aereo, si è ovviamente risentito, allora rinvia, ha chiesto più fondi per i disabili nel reddito di cittadinanza, quindi slitta il provvedimento del reddito di cittadinanza. La situazione si sta un po' incartando. Allora facciamo così, adesso intanto do il bentornato al professor Marco Revelli, sociologo, politologo. Io l'ho citato l'altro giorno che sul Manifesto ha scritto un articolo molto istruttivo riguardo l'azione dell'attuale governo e il vuoto praticamente dall'altra parte, cioè dalla parte delle opposizioni. Adesso lo sentiremo, do il buongiorno a Dario Corallo del Partito Democratico, che credo sia il più giovane tra i candidati alle primarie del Partito Democratico. diamo qualche elemento biografico, è romano, no? 1987 e credo che sia anche il capo ufficio stampa dei giovani democratici, o no? Sì, adesso in esaurimento, diciamo. In esaurimento. Ma qualcuno l'ha paragonata a Renzi? Sì, perché uno non può dire ormai che è il caso che chi ha fallito se ne vada senza essere paragonato a un rottamatore, il problema non è rottamare qua. Ma lei è critico con Renzi, non è un renziano? Ma personalmente mai stato, ma perché non mi definisco sulla base di altre persone, questo è... Bene, adesso poi ci spiegherà anche qual è il suo programma. Allora, Francesco Bardaro ci riassume un po'. Le tensioni, le divisioni, distingue insomma quello che è successo nelle ultime ore. Sentiamo. Tutto rimandato alla prossima settimana, questa volta stando alle dichiarazioni ufficiali, la colpa del ritardo sembra essere della ragioneria dello Stato. Più tempo, chiedono i tecnici, sta di fatto che il decreto del governo che avrebbe dovuto regolare nei dettagli quota 100 e reddito di cittadinanza era atteso per ieri pomeriggio ma bisognerà aspettare ancora, almeno una settimana. Un unico testo, dicevamo, in cui gli alleati di governo trattano su bianco le regole per l'accesso alle due misure e bandiera e che ancora non è arrivato sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Nodo tecnico, certo, ma forse anche politico. I fondi ci sono, si affretta a dire Di Maio, anche se la Lega alza la posta in gioco. Più soldi per rettito e pensioni e gli invalidi, altrimenti non la votiamo. La linea in materia di politica di immigrazione del governo italiano è cambiata? Assolutamente no. E' il Presidente del Consiglio che in questi giorni sembra tenere le file di tutto e fare la sintesi fra le diverse posizioni degli alleati gialloverdi come per l'ennesimo caso migranti. Raggiunto infatti l'accordo con l'Unione Europea, l'Italia accetta di accogliere una decina di migranti della Sea-Watch. Accordo però che ha fatto andare su tutte le furie il Ministro dell'Interno che da giorni ribadiva la sua posizione. Non ne sbarcherà neanche uno. Abbiamo fatto questa bellissima riunione, secondo me importante, abbiamo trovato soluzioni importanti per il terzo settore, dove abbiamo anche elencato tutto quello che noi abbiamo fatto. Quindi su questo ci siamo aggiornati a breve tempo per trovare anche risoluzioni a quello che era quello del problema dell'IRES. Grazie a tutti. Perché ci siamo a retta, no? Soltra Liga del 5 Stelle. Assolutamente no. Su la TAV, su i migranti. Non è questo l'argomento di oggi. Grazie. Dialogo tra alleati, realismo della politica, ovvero i piorni dietro fronte del governo, come nel caso del raddoppio dell'IRES per il terzo settore. Un provvedimento annunciato in manovra, ma subito ripensato, anche su pressione di Mattarella. Tanto che ieri sempre il premier ha fatto da pacere tra le istanze del mondo non profit e quelle del governo, promettendo la revoca della misura prevista appena pochi giorni fa. Sul tema dell'IRES c'è un impegno del governo a trovare nei prossimi giorni una soluzione che soddisfi tutte le questioni che noi abbiamo sottolineato. Ma d'altronde ricordiamo tutti anche l'esternante trattativa con l'Europa sui numeri della manovra, che sì in un primo momento sembrava un muro contro muro, e sfociata poi in un passo indietro del governo, un altro tanto da far scendere il rapporto deficit-pil, così come chiedeva Bruxelles. C'è da vedere ora cosa succederà sulle trivellazioni, ma soprattutto sul fronte rovente del TAV, dopo che la commissione tecnica ha espresso parere negativo per la prosecuzione dell'opera. Sono per portare avanti le cose iniziate, ha detto ieri Salvini, lanciando l'idea di un referendum per decidere sul futuro dell'opera, mentre domani a Torino nuova manifestazione per il sì, a cui parteciperanno anche esponenti della Lega, contro però le posizioni dell'alleato di governo. Sta per arrivare in Parlamento per essere approvata, un sacrosanto diritto per quello che mi riguarda, anche se qualcuno oggi dell'Associazione dei Magistrati dice che è una legge pericolosa, rischia di legittimare l'omicidio, ma dai, ma per favore. Le prossime settimane vedranno il Parlamento impegnato in provvedimenti che potrebbero acuire le frizioni tra alleati come l'analisi del testo Carasso Albini sulla legittima difesa che già oggi fa scaldare gli animi degli alleati griglini e dei magistrati. E a proposito dei alleati, l'ultimo a batti becco è andato in scena ieri tra il sindaco di Roma, Virginia Raggi, e il ministro dell'Interno. Abbiamo bisogno di più poliziotti, come premesso dal ministro, a Twitter sindaco, la fidale, la risposta del ministro, se ognuno facesse il suo lavoro, l'Italia sarebbe un paese migliore. Allora, adesso vado dal professor Revelli. Intanto voglio soltanto dare conto dell'ennesima polemica proprio di questi minuti. Vi faccio vedere la prima pagina di Libero di questa mattina, forse la possiamo inquadrare. Allora, Libero scrive Comandano i terroni ai meridionali tre cariche istituzionali, su quattro. Il riferimento è a Mattarella, capo dello Stato, Conte, premier, come sapete, e pugliese, il presidente del Consiglio, e Fico, presidente della Camera, che è campano, sono del sud. Poco fa, replica duramente Di Maio, che dice buongiorno con la prima pagina di Libero, giornale finanziato con soldi pubblici anche quelli dei terroni. Questa è la preziosa informazione da tutelare con i vostri soldi, ma tranquilli, abbiamo già iniziato a toglierne da quest'anno e nel giro di tre anni arriveranno a zero. E poi fa un post scriptum Di Maio, anche questa volta l'ordine dei giornalisti rimarrà in silenzio. Eh, guardo Maradomasi che per Libero scrive. L'ordine dei giornalisti ha archiviato anche tutto su Casalino di cui abbiamo sentito il fuorionda, non tanto carini, diciamo. Libero fa il suo mestiere e che Di Maio vada orgoglioso del taglio dei fondi pubblici ai giornali non mi sembra una cosa tanto bella, anche perché ne va della libertà di stampa che andrebbe tutelata. Tutelata. Poi se non hanno paura i giornali possono scrivere liberamente, se non hanno nulla da nascondere, i giornali possono scrivere liberamente. Insomma, le polemiche ogni giorno ha la sua pena, si dice. Poi voglio sentire su questo ovviamente Carelli, però vado da Professor Revelli. Allora, Professor Revelli, che sta succedendo dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, insomma, glielo chiedo perché oggi un altro insomma commentatore importante che è il direttore della Verità Belpietro dice guardate che nonostante le frizioni, distinguo, i battibecchi che ci possono essere tra gli atti di governo, il governo non cadrà, è sostenuto da quasi il 60% degli italiani e comunque ogni alternativa a questo governo dice Belpietro sarebbe peggio. Ma cosa succede rispetto all'immediata polemica di Libero? Direi che volano gli strazzi ai livelli più bassi della decenza, cioè questo ricuperare il discorso sui terroni e i nordisti è veramente al di là del buon gusto non solo della decenza politica. Sul piano del governo cosa è successo in questa settimana? È successo che il Presidente del Consiglio ha fatto il Presidente del Consiglio, cioè colui che in base alla Costituzione definisce l'indirizzo politico del governo. Chiaro che questo ha messo in difficoltà anche psicologica Salvini che credeva di essere il padrone del governo mentre ne è un socio di minoranza e che in qualche misura è stato rimesso al suo posto per il peso specifico che ha. Questo comporterà che cosa? Sì, comporterà una serie di movimenti tellurici di scosse di assestamento non credo che crolli l'architrave perché non è interesse di nessuno dei due vengono al pettine i nodi di una coalizione di governo bipolare nel senso psichiatrico del termine cioè con identità personalità ma anche come dire psicosi diverse con una lega che si rivela sempre di più omogenea al partito degli affari il suo allineamento sul Tav Torino-Lione è indicativo fa parte di quella compagnia di giro che è interessata alla grossa torta di quell'opera c'è un programma sociale del governo spaventosamente indebolito rispetto alle promesse anche per responsabilità dell'Europa dei vincoli europei quindi ci sono delle proposte di politiche sociali che non vanno avanti come avrebbero dovuto andare c'è un tentativo di recuperare sulle cose più facili le politiche disumane nei confronti dei migranti quello che è stato fatto in queste settimane la presa in ostaggio di quelle povere anime che sono state lasciate in balia del mare è disgustoso è un fatto è una vergogna nazionale ed europea allora aspetti aspetti professore scusi se la interrompo ho una pubblicità tassativa però insomma mi pare che in questo antipasto ce l'abbia detto molto allora adesso devo andare per sentire la replica di Emilio Carelli però abbiamo la pubblicità e riprendiamo visto che lo accennavamo prima da un'altra questione che contrappone lei che è Movimento 5 Stelle che è la questione delle trivelle Di Maio in qualche modo ha cercato di rimediare perché recentemente a proposito delle autorizzazioni per le nuove trivelazioni Di Maio aveva detto lo ereditiamo dal governo precedente non posso farci niente invece ci sarebbe un provvedimento la Lega però ha messo un alto là ripartiamo da qui L'emendamento blocca trivelle previsto nel decreto semplificazioni presentato da 5 Stelle non piace agli alleati di governo non possiamo consentire che la paura blocchi lo sviluppo parole di Vagna Gava sottosegretario leghista all'ambiente serve equilibrio tra le ragioni dell'ambiente e le attività imprenditoriali fa eco il vice ministro allo sviluppo economico Dario Galli anche lui del carroccio e alla fine di una lunga giornata interviene anche Matteo Salvini no al blocco totale in mare a largo si può su Twitter diventa virale la maglia indossata qualche tempo fa dal leader della Lega la pubblica Maglio Di Stefano che scrive sono certo che Salvini riporterà i suoi sottosegretari sulla strada giusta ma il tentativo del Movimento 5 Stelle di ricucire la frattura con la base elettorale Notriv rischia di saltare Luigi Di Maio vuole recuperare la porcata parole sue ereditata dal governo precedente anche se in un primo momento aveva detto di non poter fermare il via libera alle concessioni autorizzate dalla commissione tecnica del ministero dell'ambiente scatenando l'ira del ministro Sergio Costa ma l'imbarazzo per il pasticcio Trivelle resta un brutto colpo per il geologo Franco Ortolani eletto senatore grillino per le sue battaglie notrifie io dal 97 al 98 che mi sono occupato della tutela delle risorse idri in questo periodo di cambiamento climatico tant'è vero che con la mia relazione fu bloccato il primo tentativo di avviare le attività petrolifere a rischio Trivelle sarebbe stato anche il parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano tra la campagna e la Basilicata a cui il senatore Ortolani ha dedicato tutta la vita si tratta di un'area perimetrata al di sopra di un serbatoio idrogeologico naturale che alimenta 4000 litri al secondo di acqua potabile che è di importanza strategica ne parlo di questo perché è eclatante come situazione che non dovrebbe essere stata proprio presa in considerazione per avviare una valutazione di impatto ambientale di attività petrolifere è talmente evidente che non c'è compatibilità con la difesa dell'acqua potabile che è strategica ma perché la commissione ambiente ha autorizzato in Basilicata in Puglia nelle acque del Marionio? evidentemente non è trasparente usa la scienza però per avvalorare attività che vanno contro la tutela delle risorse idriche e della salute quindi diciamo che è una una struttura programmata per dire sì cioè che non fa gli interessi dell'ambiente? no né dei cittadini ad esempio vi sono caratteristiche tali in mare che non sono state prese in considerazione precedentemente perché c'era una programmazione ad agire comunque indipendentemente dall'impatto negativo che si poteva avere sulla economia costiera non parliamo più di ambiente se no uno è ambientalista no quasi l'altro è di economia costiera e la mia linea che discuteremo è quella di ripristinare queste aree di assoluta protezione ambientale dove non si possono fare attività che possono andare a intaccare queste risorse naturali questi beni comuni strategici che sono poi monumenti alla natura che rimarranno se le cose non cambiano che fa si dimette cambieranno non ci sarà problema se tu ciò il carissario allora vado a dire corallo perché metto insieme un po' di cose no il professor Ravelli diceva la Lega è il partito degli affari di chi vuole per esempio citava in maniera specifica il TAV penso alle trivelle perché Di Maio dice l'abbiamo ereditato dai governi precedenti in particolare dal governo diciamo Renzi e Gentiloni come ultimo governo sul TAV c'è una strana alleanza tra la Lega e il partito democratico nel senso sia i governatori di Lombardia e Veneto sia il governatore del PD del Piemonte Chiamparino dicono no sa da fare quest'opera e io voglio chiedere il suo punto di vista su questo cioè lei per esempio perché molti dicono ma il PD che posizioni ha lei sulle trivelle che posizione ha? Beh io sono convinto che le trivelle siano in realtà un falso problema cioè il vero problema è che questo paese non investe più in una ricerca seria energetica da non si sa quanti decenni noi abbiamo bisogno di una sola vera grande opera che è la transizione ecologica di tutto l'impianto industriale di questo paese prima si diceva ma non si capisce perché autorizzino certe cose perché è funzionale al sistema capitalistico cioè ovviamente quando i grandi interessi che sono quelli che muovono e che effettivamente prendono le decisioni hanno interesse a che una cosa venga fatta o no ecco che la politica tendenzialmente va a ratificare quella scelta perché? perché non ha la spina dorsale per prendere una scelta diversa ma il suo partito ha secondato questi interessi capitalistici come li ha chiamati lei è stato il partito dei poteri forti penso soprattutto al governo Renzi quando Renzi era segretario il Movimento 5 Stelle l'ha detto in tutte le occasioni il partito delle banche dei poteri forti è stato questo ma non è soltanto dei poteri forti il sistema capitalistico è molto più complesso i poteri forti sono un modo per mascherare quali siano effettivamente i poteri forti sono multinazionali del commercio dell'industria della produzione e anche la grande economia finanziaria il problema anche viene spesso tirata in balo la questione della credibilità si sono presi degli impegni quindi è giusto rispettarli vero dopodiché c'è anche un tema di credibilità di un sistema paese che si cerca di farsi carico dei costi ambientali eccetera quando invece il capitalismo può procedere tranquillamente senza occuparsi di quelli che sono i suoi effetti allora questo deve finire per questo l'obiettivo deve essere una grandiosa transizione ecologica quello che negli Stati Uniti la sinistra americana sta chiamando con il nome di Green New Deal quindi quella conversione totale dell'apparato produttivo energetico per esempio investendo ricerca sulla fusione nucleare facendo ricerca su nuove forme energetiche perché non possiamo andare neanche avanti con le pale o con i pannelli solari perché non sono abbastanza però invece tagliamo no perché la fusione non è rinnovabile dopo di che tagliamo invece sulla ricerca non si può tagliare sulla ricerca dire no alle trivelle dire no perché perché allo stesso tempo noi qua in questo studio per esempio fa comodo avere la luce accesa avere il riscaldamento credo che a tutti gli italiani fa comodo avere il geletto il problema qual è? il problema è che se si sono presi accordi questo adesso è un problema che si dovrà smazzare il governo il Partito Democratico non ha una linea perché è assolutamente ininfluente in questa fase perché ha scelto di darsi alla politica dei pop corn e il nodo è che bisogna ricominciare a investire sulla ricerca energetica sulla transizione ecologica questo mi è molto chiaro però io faccio un'obiezione che molti fanno vado a Paolo Tommasi e poi torno da Emilio Carelli cioè le grandi opere adesso uno può essere favorevole o contrario quindi non entro nel merito per esempio perché poi c'è sempre l'eco del TAV sulle nostre teste però le grandi opere per loro natura sono progetti di lungo a lunga scadenza se ogni governo che viene le rimette in discussione non avremo mai grandi opere o no? Sono opere che portano alla crescita dell'economia cioè questo governo ha parlato per mesi di una legge di bilancio espansiva che è espansiva però non è perché appunto non ha nulla di investimenti o poco anzi era già partita con poco nella trattativa con l'Europa gli investimenti si sono ridotti sempre di più ma infatti nel servizio si diceva che la Lega è il partito delle imprese ma il 5 Stelle però è il partito del no a tutti è no il TAV è no il TAP perché ci siamo dimenticati ma poi ha detto sì mi dirà alla fine si farà anche la TAV è il partito del no e delle marce indietro è il partito del no in campagna elettorale perché porta consenso ma poi davanti ai dossier quando si ha il governo che è diverso dal fare opposizione o dal fare campagna elettorale e si rendono conto che gli investimenti e le grandi opere sono fondamentali per la crescita ma anche per il benessere perché penso all'alta velocità fa comodo avere l'alta velocità cioè se c'è la possibilità di avere dei treni veloci perché ce ne dobbiamo privare per esempio i collegamenti centro-nord sono molto più veloci rispetto ai collegamenti ferroviari centro-sud perché non sviluppare anche quell'ultima parte che rilancerebbe il mezzogiorno e aiuterebbe anche le imprese del mezzogiorno perché chi fa impresa al sud parte svantaggiato rispetto a chi lo fa al centro-nord perché per parlare questo divario tra nord e sud sta crescendo in maniera impressionante ed è un divario soprattutto infrastrutturale c'è una proposta che è del professor Nicola Rossi elaborata da lui pa chi ha l'impresa ex senatore del partito democratico ricordiamolo anche no? economista autorevole mi pare che ha firmato alcun progetto di flat tax per l'istituto Bruno Leoni qualche tempo fa e un modo per risolvere il gap nord-sud è le imprese del sud pagano la stessa Ires delle imprese del nord ma hanno molti meno servizi rispetto alle imprese del nord fino a quando c'è il gap infrastrutturale e di servizi offerti dallo Stato le imprese del sud paghino le tasse commisurate ai servizi di cui beneficiano e via via che colmi il gap aumenti anche l'Ires fino a riportarla allo stesso livello è una sensazione arrivo Corallo però perché siete no perché questa è la narrazione ma io vorrei rettificare quello che dice la collega cioè il Movimento 5 Stelle non è mai stato contrario all'alta velocità anzi nel nostro programma di governo c'è proprio un punto che prevede di sviluppare l'alta velocità anche al sud per recuperare il gap dell'alta velocità che hanno creato i governi precedenti che non abbiamo creato noi tornando al discorso delle trivelle il discorso delle trivelle cela dietro di sé una questione fondamentale cioè il nostro paese un paese avanzato in futuro dovrà approvvigionarsi di energie dal punto di vista fossile oppure dovrà puntare sulle energie rinnovabili come l'eolico come il 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 solare eccetera eccetera perché tutti gli scienziati e tutti gli esperti dicono che il futuro è da questa parte è dalla parte delle energie rinnovabili quindi è inevitabile che noi teniamo una posizione che a tendere sarà contro le trivellazioni ma il discorso delle trivelle poi in questi giorni non è stato portato avanti correttamente perché i tre permessi che il Mise ha dovuto dare in seguito a permessi precedenti dati dai governi guidati dal PD sono permessi per una ricerca nel sottosuolo ma non per trivellare e in ogni caso se non fossero stati avallati dal Mise in questi giorni avrebbero comportato un contenzioso da parte delle aziende che già avevano avuto il permesso due anni fa e che avrebbero portato il governo di fronte all'altare o diciamo così di fronte a un tribunale amministrativo ottenendo poi fra qualche mese comunque l'ok per portare avanti queste ricerche ma non si tratta di trivellazioni quindi di carotaggi diciamo così è bene chiarirla anche prima perché ha fatto la campagna elettorale ma noi la portiamo avanti non è che abbiamo cambiato idea noi siamo contro le trivellazioni e anzi abbiamo presentato nel decreto semplificazioni un emendamento proprio per vietarle completamente sul futuro ma non parliamo di trivellazioni certo troveremo un punto d'accordo comunque l'unica cosa leggendo il contratto di governo ai tempi una cosa che mi ha colpito molto ancora ci rifletto è che si parla mille volte mentre non si parla di politica industriale del paese per esempio si parla sempre delle auto elettriche il passaggio alle auto elettriche è ripetuto mille volte come se il futuro dell'Italia dipendesse dalle auto elettriche e non vorrei fare un cattivo pensiero che magari casaleggio ma fallo poi tanto abbiamo Carelli che è in grado di replicare siccome io ho sempre il retropensiero che in tutto quello che faccia il movimento 5 stelle ci siano interessi della casaleggio associati questa insistenza sulle auto elettriche che poi rientra nel del discorso la casaleggio associati non produce auto elettriche adesso ti faccio una battuta appunto però c'ho questo retropensiero e le auto elettriche rientrano però nel tema di transizione energetica di passaggio e volevo chiedere appunto questa cioè non si le sorti dell'energia e dell'economia non dipendono dalle auto elettriche mi sembra una lettura fantascientifica perché l'auto elettrica è il futuro dell'automobile lo stiamo vedendo nei paesi del nord nel nord Europa ormai si va verso una percentuale del 20% e penso che il futuro delle automobili sarà quello dell'auto elettrica ma questo lo sostengono tutti e tutte le aziende automobilistiche del mondo si stanno riconvertendo sull'auto elettrica non penso che lo facciano ma non penso che lo facciano perché la casaleggio abbia degli interessi perché la casa automobilistica quella casaleggio la non dà che vedere allora e adesso torno da Corallo ve lo sentire Revelli che scuote la testa allora intanto vi do una notizia perché poco fa Toninelli ha dato una data cioè ha detto a fine gennaio quindi a fine di questo mese arriva la risposta definitiva sul tav ecco quindi adesso ci sono state tutte queste anticipazioni il governo ha preso ancora tempo ha detto è una bozza preliminare non è la conclusione dello studio costi benefici però insomma Toninelli manca poco insomma tra poco sapremo anche se tutto diciamo fa pensare che è una bocciatura poi l'analisi complessiva era fatta Revelli che voleva dire professore Revelli scuotevo la testa perché mi sembra davvero surreale immaginare che nel discorso sull'auto elettrica abbia qualcosa da dire da fare la casaleggio associati è vero è un problema che si pone in tutto il mondo è un problema che la Germania è un problema che la Germania sta affrontando seriamente è un problema che se la Fiat avesse affrontato per tempo non sarebbe non sarebbe finita come è finita è il futuro quello quindi non mescoliamo le cose serie con le facezze sono d'accordo le ritrovo le consiglio troppo centrali grandi opere sulle questioni grandi opere l'espressione di per sé è un'espressione sbagliata nelle grandi opere ci stanno delle buone opere ci stanno delle pessime opere l'alta velocità Torino-Milano è una buona opera io sono sempre stato favorevole se non fosse per il fatto che è costata alla fine sette volte tanto rispetto al preventivo e che costa tra le cinque le sei volte in più per chilometro rispetto alla Francia e alla Spagna quindi sulle grandi opere anche quelle buone c'è qualcuno che ci mangia per usare un'espressione volgare sulla TAV Torino-Lione è una pessima opera su questa cosa qua sono vent'anni che si studia e si analizza e si portano dati tutto quello che sta avvenendo la manifestazione di domani a Torino si TAV è un accanimento terapeutico nei confronti di un'opera che in un paese serio sarebbe un cadavere perché non ha nessun senso non ha nessun senso nemmeno all'interno della logica capitalistica perché è uno spreco di denaro basato su delle proiezioni di traffico fantascientifiche su una tratta che unisce due economie mature che non si scambieranno mai quei volumi di traffico che sono indicati come necessari perché l'opera abbia un senso è un'opera che devasta un territorio che umilia una popolazione che produce dei danni ambientali e che costerà agli italiani una quantità di denaro spaventosa non solo per la costruzione ma per la gestione e manutenzione di quel mostro chiarissima la sua posizione è chiarissima su questo facciamo una cosa vado in pubblicità con una domanda sospesa per il professor Revelli poi torno da Dario Corallo ci vediamo tra poco Allora quanti temi poi sono tutti tra loro incrociati intanto c'è il dato che non è un dato di secondaria importanza dell'Istat sullo stato di salute della nostra industria e allora a novembre il dato come il dato sul lavoro dell'altro giorno è riferito a novembre dello scorso anno la produzione industriale è scesa dell'1,6% rispetto ad ottobre 2018 e del 2,6% rispetto a novembre del 2017 ci informa comunque l'Istat che considerando complessivamente gli 11 mesi del 2018 appunto perché siamo arrivati al dato di novembre la produzione industriale italiana è cresciuta dell'1,2% rispetto all'anno precedente ma insomma in chiaro scuro certo l'Italia fa ancora molta fatica professor Revelli proprio in un flash la domanda che avevo in sospeso che in qualche modo avevo accennato prima mettendo da parte TAV così insomma sgombriamo il campo da favorevole e contrari sul TAV io dicevo però le infrastrutture poi chiamiamole grandi opere chiamiamole come vogliamo in Italia anche per i motivi che diceva lei hanno tempi molto lunghi e li evitano i costi allora però se ogni governo si mette a smontare quello che hanno deciso i governi precedenti le grandi infrastrutture non le facciamo io su questo volevo il suo parere no ma non c'è dubbio che ci sono alcune infrastrutture indispensabili indispensabili penso all'autostrada del sole quando l'Italia è diventata un paese industriale quella è un'infrastruttura indispensabile e quelle devono essere messe al sicuro rispetto a retromarza e così via d'altra parte non conosco infrastrutture utili che siano state azzerate per una scelta politica molte sono finite nel nulla ma posso farle una provocazione scusi professore una provocazione Salerno Reggio Calabria 50 anni a memoria ci sono serviti se si fosse fatto un'analisi costi e benefici probabilmente non ci sarebbe stata quell'autostrada o no faccio una provocazione no io credo che una qualsiasi analisi costi e benefici avrebbe deciso sicuramente il grande beneficio dopodiché bisogna andare a vedere che i costi siano quelli reali e non ci siano dentro le tangenti le indranghete i pizzi le corruzioni e così via diamo un taglio a quello sì allora Corallo mi dice una cosa perché mi piace proprio perché si critica tanto il suo partito no no non hai idea sul TAV la sua posizione qual è? la mia posizione personalissima è che tu adesso hai mezza montagna bucata cioè dal lato francese no 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 ma fermo stia tranquillo ancora non ho detto c'è un pezzo di montagna bucata perché il buco cesso è andato a vederlo fisicamente il problema qual è? il punto è che quell'opera ora come ora bisognerebbe rivalutarne l'effettiva utilità chiamare uno studio effettivo si valuta la cosa e una volta che si ha quella valutazione perché ce ne sono tante commissionate dalle due parti da una parte quelle commissionate da chi ha interesse dai favorevoli dai contrari possiamo fare una cosa che ne facciamo una fatta bene condivisa con dei periti ne calcoliamo l'effettiva utilità e decidiamo se procedere o no e beh ma questo è un po' quello che il governo vuole fare sta facendo il vero è che noi dovremmo investire sulle infrastrutture al meridione aveva ragione prima perché altro che il potere ai terroni come titola Libero oggi è evidente che non è così al sud noi abbiamo si Libero fa la postilla l'avete visto nel titolo questo è il motivo per cui Salvini è frenato no? e questo scrive Libero la perdita economica per il paese è doppia perché noi facciamo le grandi opere e poi le privatizziamo questo è il problema cioè prendiamo il caso delle autostrade per esempio perché non si investe al sud perché viene considerato meno importante l'autostrada è un grande monopolio naturale perché non è che si possono mettere più autostrade una accanto all'altra in concorrenza e vediamo la gente quale autostrada sceglie quella una è tuttavia invece che privatizzarla perché nazionalizzarla noi l'abbiamo data in mano ai privati e lo stesso vale per l'energia l'acqua tutta una serie di servizi essenziali che vanno a creare disparità perché al nord funzionano e ti trovi in posti come in alcune città della Sicilia dove l'acqua ce l'hai da luna alle 4 di notte parliamo di strade in Sicilia io preferirei invece che investire sul TAV andare innanzitutto andare a recuperare quello che è il gap nord-sud ma in termini concreti l'industrializzazione e la produzione scende perché sono anni che ci viene detto che questo paese può vivere di turismo e non è vero perché un paese non vive di turismo nel senso di terzo settore ma vive di turismo nel momento in cui produce i mobili che stanno dentro gli alberghi produce il cibo produce... il turismo può dare una grande mano ma ci vuole anche come si chiamava una volta il manifatturiero non basta il turismo serve uno Stato che torni a giocare da protagonista non solo nella gestione della produzione nazionalizzazioni certo ci mancherebbe andiamo capendo un po' di cose per quanto riguarda la sua piattaforma soltanto attraverso le nazionalizzazioni lo Stato può tornare innanzitutto a giocare da protagonista nel mercato del lavoro dando degli standard al costo del lavoro che oggi sono bassissimi perché? perché a noi ci hanno insegnato la mia generazione hanno insegnato la favola per cui se ci stanno due persone in concorrenza alla fine la concorrenza porta a un miglioramento abbiamo scoperto che quelle due persone si mettono d'accordo e tirano al ribasso su che cosa? sugli stipendi sui diritti dei lavoratori su gli investimenti che servono realmente aspetta un attimo perché nazionalizzazione in queste ore mi fa venire in mente la vicenda di Banca Carige possiamo far vedere Maratin e Laboschi insieme che hanno replicato alle polemiche alle accuse del Movimento 5 Stelle lo vediamo? questa roba qui quando la facemmo noi se lo ricordano tutti fu un oggetto chi era direttamente al governo in Parlamento io qualcuno sale con un ruolo tecnico qui nascosto al Palazzo Chigi ma chi era al governo in Parlamento qui c'è qualcuno che ne sa qualcosa mi sembra di ricordare diciamo qualche attacco qualche critica è stato fatto oggetto non di una feroce critica politica che sarebbe già sufficiente a dimostrare l'incoerenza ma di accuse di insulti irripetibili a noi ci mettono su un croce se in Parlamento ma io mi ricordo non uno qualunque il Di Maio il leader del Movimento 5 Stelle che in aula in Parlamento attaccava Gentiloni per aver salvato MPS per aver fatto quelli che con i soldi pubblici in realtà hanno fatto la stessa identica cosa solo che con l'ipocrisia di non ammettere che è la stessa identica cosa nonostante le carte siano evidenti Allora Carelli perché il Ministro dell'Economia in Parlamento ha detto è lo stesso provvedimento perché il quadro delle norme europee anche questo ci permette di fare allora io capisco la legittima contrapposizione politica anche forse è nata ma perché da parte vostra qualcuno non ha detto è vero è lo stesso provvedimento quello di Carige rispetto a quello di Monte Paschi ci sono due differenze di fondo a mio parere il provvedimento che è stato fatto per Carige è stato un provvedimento preventivo per preservare gli interessi dei piccoli risparmiatori degli investitori e dei piccoli azionisti prima che le azioni si azzerassero e prima che la banca andassi in default i provvedimenti che erano stati fatti prima invece per le altre banche venivano fatti quando ormai tutto era perso prima cosa seconda cosa nelle banche salvate dal PD c'era sempre o spesso una coinvolgimento di un parente di un ministro di un uomo politico eccetera e questo chiaramente creava un conflitto di interessi ci ricordiamo anche che qualcuno usò anche la propria carica istituzionale per andare a perorare gli esiti e il salvataggio di quella banca qualcuno è Marilena Boschi in questo caso l'ex ministro esatto prima di sentire il tempo Corallo lei cosa ne pensa di questa vicenda cioè vedendo Marattina e Laboschi che cosa ha pensato hanno ragione no a me fa sorridere il fatto che la linea politica del partito Renzi avrebbe detto il fuoco amico sì no ma la linea politica del partito adesso è dire alla maggioranza e allora il PD cioè fondamentalmente si sono invertite le parti per cui il partito prende se stesso come termine di paragone negativo per giudicare l'operato del governo cioè una cosa ai limiti del surreale allora invece perché non organizziamo il dissenso cioè che cosa deve fare un partito di sinistra andare nelle oggi è l'anniversario della morte di Fabrizio D'Andrea sì andare a parlare a prendere andare a recuperare quel popolo lì quegli esclusi quegli emarginati organizzarne il dissenso organizzarne la protesta e marciare contro il governo e marciare in compatti portare il conflitto nelle istituzioni però mi perdoni adesso lo riprendiamo questo concetto così interviene la cabana Tommasi molti di quelli emarginati hanno votato il Movimento 5 Stelle o la Lega molti di quelli emarginati non votano proprio più perché non è la politica perché non è la politica che prende le decisioni realmente c'è bisogno di una battaglia di riacquisizione di autonomia della politica allora ci rimane circa un quarto d'ora intanto parlavamo con Dario Corallo lo voglio un po' sfruculiare come si dice perché voglio fargli sentire due battute di due altri competitor nella corsa alle primarie Giacchetti che rivendica con l'orgoglio quanto fatto dai governi Renzi e Gentiloni e poi vi faccio sentire anche Maria Saladino ieri ha presentato ufficialmente la propria candidatura e ha detto voglio rivoluzionare il Partito Democratico sentiamo devo dire che siamo in in un clima di coma voglio chiamarlo così mi dispiace infatti ho chiamato nel gergo il mio programma pillole programmatiche la riorganizzazione del Partito Democratico ho previsto cinque presidi territoriali dove cambiando lo statuto qualora io dovessi diventare segretario ho previsto intanto al momento nello statuto del Partito Democratico è prevista la figura del segretario e di due vice segretari io invece ho previsto cinque presidi territoriali dove si vede il segretario e cinque vice segretari territoriali per nord sud centro isole io penso che il punto di forza sia la difesa a tutto tondo e la rivendicazione dello straordinario lavoro che abbiamo fatto nei governi Renzi Gentiloni qualcosa di cui non vergognarsi e qualcosa di non cancellare ma anzi qualcosa da quale ripartire per fare di meglio io direi a loro in bocca al lupo Paolo Tomasi voglio fare una domanda perché molti già hanno criticato il Partito Democratico cioè il 3 marzo ci sono le primarie ma come fa il nuovo segretario a organizzarsi a organizzare una squadra visto che poi le europee sono a fine maggio poco dopo come fa? è una cosa è una cosa che effettivamente non ha molto senso ma voglio collegarmi a quello che diceva prima Corallo sulla raccogliere il dissenso organizzare il dissenso il Partito Democratico purtroppo non lo può fare perché non è più credibile e ha anche la coscienza sporca nel video che abbiamo visto con Maratina e Laboschi era più voglia di vendetta e di rivincita e non aveva senso perché è vero quello che diceva Carelli non ci sono in Carigia dei parenti dei governanti dentro e il provvedimento è preventivo secondo me quello che è stato fatto su Carigia va oltre la politica e ieri scrivevo sul Libero il 20 settembre del 2018 c'è stata l'assemblea dei soci che ha eletto nominato il nuovo CDA della banca che è quello che poi l'ha portata dopo 4 mesi alla deriva e al commissariamento da parte della BCE e poi c'erano due cordate che si contendevano il controllo di Carigia e qualche giorno prima dell'assemblea è intervenuta la BCE col tramite di Banca d'Italia che ha congelato una parte delle quote il 5% di una delle due cordate mettendola di fatto fuori gioco e c'è anche un altro fattore c'era una quota del 3% che era della società SGA una società di gestione delle attività controllata dal tesoro che prima dell'assemblea ha venduto le sue quote alla cordata di Malacalza quando l'altra cordata invece da tempo le chiedeva e SGA non la vendeva certo quando si va a scavare nelle banche viene fuori tutto per favorire una cordata che poi ha portato a schiantare la banca perché se fosse successo questo però poi la banca fosse riferita niente da dire adesso però c'è una grande sfida davanti ai commissari lo trovano sul mercato che era il piano industriale della cordata che è stata appunto penalizzata quello di vendere gli NPL ripulire la banca dei crediti deteriorati per poi farla sposare fare una fusione con un altro istituto di credito italiano in realtà in questi quattro mesi l'unica cosa che i nuovi amministratori hanno fatto è stato sì migliorare lo stato dei crediti deteriorati cioè snellire ma un programma che era della vecchia gestione non dei nuovi amministratori e poi portarlo allo scanto e finirà che verrà venduta e fusa o comprata magari a un euro da un gruppo internazionale e non italiano questo è successo per le due banche venete comprate a un euro per un euro dalla banca intesa finisce da un gruppo internazionale tutto questo da un governo sovranista questo per dire che secondo me Salvini Di Maio il 5 Stelle e la Lega sulla vicenda Carigie non hanno avuto grande ruolo si è svolto tutto più a livello tecnico faccio una domanda a Carelli perché Di Maio dice se dovessimo metterci una lira adesso sono garanzie diventa una banca che viene nazionalizzata a proprietà diciamo la maggior azionista diventa lo Stato in modo che dia aiuto a famiglie a imprese a giovani qualcuno ha detto caro Di Maio guarda che MPS è già questo ma perché non fai di MPS la banca pubblica a cui ti riferisci ma faccio questa domanda in effetti c'era stata anche questa ipotesi e la precisazione di Di Maio era unicamente diciamo voluta e fatta per precisare che questi 3 miliardi che il governo ha stanziato come garanzia per quello che farà la banca Carige diciamo così non sono soldi veramente spesi dal governo italiano perché se la banca adesso non verrà poi riacquistata o risanata da qualche altro gruppo sarà nazionalizzata a questo punto per un certo periodo perché poi non lo può essere per sempre perché è sempre a tempo ricordiamolo perché le norme europee impediscono la nazionalizzazione per sempre ma solo per un risanamento e poi un'eventuale ricollocazione sul mercato Allora Corallo banche nazionalizzate come devono essere in banca? Prima vorrei dire una cosa nessuno si deve mai permettere di dire che il partito ha la coscienza sporca il partito è molto di più del suo gruppo dirigente dei dirigenti possono avere la coscienza sporca il partito sono centinaia decine centinaia di migliaia di militanti che ogni giorno spendono un pezzetto della propria vita per un'idea quindi quei militanti non hanno la coscienza sporca a quelle persone è stato mentito spesso allora ci possiamo stare per quanto riguarda le banche bisogna nazionalizzare ma bisogna affrontare anche un altro punto quale? noi ci troviamo con di fatto la nostra banca centrale che è la banca centrale europea con la quale noi teniamo rapporti come se di fatto si trattasse di una banca estera perché? perché la banca centrale europea in nessun modo può andare ad assorbire il nostro debito perché i rapporti che ci dividono non è come quelli con una banca centrale nazionale allora affinché non si pone questo elemento andando a rivedere i trattati che regolano lo statuto della BCE rendendolo l'organismo in grado di erogare credito per i paesi e allo stesso tempo farsi garante dei debiti dei singoli paesi noi a quel punto non avremmo ottenuto nulla perché? perché stiamo lì con il pareggio di finanza ma con il bazzucca di Draghi abbiamo dimostrato che lo spread era facilmente riassorbibile con delle manovre allora quel bazzucca forse andrebbe appunto reso istituzionale reso costante bisogna ripensare il ruolo della banca centrale europea bisogna ripensare il rapporto che c'è tra i paesi e la banca centrale europea altrimenti l'unica altra soluzione che sarebbe disastrosa è quella che propone la Lega quella di ritornare alle monete nazionali che ora come ora sarebbe un disastro bisogna andare a modificare la banca centrale europea dandole l'obbligo di riassorbire eventualmente e farsi garante dei debiti sovrani e in secondo luogo imporre un nuovo tasso che deve essere interessante non di interesse che è quello della disoccupazione massima imporre la disoccupazione che deve essere al 3% cioè l'occupazione la piena occupazione come obiettivo delle istituzioni europee se si fa questo come è baramente la Fed negli Stati Uniti che hanno la piena occupazione e non sono dei bolshevili leninisti alla Fed ma questa è la linea del ministro Savona è la linea del ministro Savona il problema è che è una linea in parte quella del ministro Savona ed è una linea di sinistra perché il sovranismo è un concetto che non esiste cioè è stato inventato da Repubblica e poi la destra puntualmente lo riempie noi come sinistra siamo quelli che hanno inventato il concetto della sovranità popolare riportare il popolo ad essere il soggetto che decide e prende la decisione primo articolo della Costituzione sulla scena del suo ragionamento perché abbiamo pochi minuti voglio ricoinvolgere il professor Revelli perché il professor Revelli mi pare oggi è stato intervistato dal Fatto Quotidiano e racconta dal suo punto di vista cosa pensa in vista delle europee le alleanze che si vanno costruendo creando cosa pensa di questo endorsement di Di Maio verso i gile gialli una trattativa in corso poi anche i gile gialli sono una galassia molto composite e differente e lei ha detto professore vediamo vado a memoria ma perché il Movimento 5 Stelle ha bisogno di rifarsi una virginità che cosa? Sì no ho detto che questo tentativo di asse di alleanza di collaborazione tra i 5 Stelle italiani e i gile gialli francesi non mi stupisce nella proposta che viene fatta dai 5 Stelle e la condizione per recuperare un po' di quella freschezza originaria di quella innocenza perduta di movimento di protesta che dà voce alla protesta dal basso che si è stemperata fino come dire a ridursi ai minimi termini nella alleanza ibrida con la Lega di Salvini e con le responsabilità di governo i gile gialli sono un fenomeno straordinariamente interessante non solo per i politologi e i sociologi ma anche per i politici sono oggi il fatto sociale europeo più importante sono un movimento che ha destabilizzato un potere che sembrava basato sulla roccia come quello di Macron sono una spina nel fianco alle politiche di austerità europee e quindi come dire ipotecano le stesse elezioni europee è molto difficile che i gile gialli abbiano lo stesso interesse a confondersi con gli italiani un po' perché i francesi non amano gli italiani un po' perché tutti questi movimenti hanno una venatura fortemente territoriale e nazionale non voglio dire nazionalista nazionale sì e quindi come dire l'operazione si capisce ma non credo che andrà necessariamente o probabilmente a buon fine carelli carelli che voleva dire telegrafico condivido buona parte dell'analisi del professor Revelli vorrei aggiungere che c'è una condivisione di valori con i gile gialli cioè il fatto di recuperare quelli che sono stati emarginati dalla crisi economica degli ultimi dieci anni cosa che abbiamo tentato noi di fare attraverso il nostro programma di governo e attraverso i provvedimenti che questo governo sta varando attraverso le leggi di bilancio eccetera ci accomuna alla protesta dei gile gialli la differenza tra l'Italia e la Francia che in Italia questa protesta ha trovato diciamo così è stata incanalata a livello parlamentare quindi è rappresentata in modo molto serio con quasi il 33% dei voti e dei parlamentari in Francia invece con l'elezione di Macron di due anni fa tutta questa parte della popolazione è rimasta escusa ed ecco perché adesso va in piazza allora Mirta buongiorno ciao caro Andrea buongiorno oggi faremo un'apertura diversa guardateci perché sarà un'apertura molto particolare potevamo parlare del decretone 400 ma il decretone non c'è è stato rimandato perché il governo ogni giorno ha deciso di fare la pace o la guerra Giovanni Totti Michele Sodano Federico Geremicca Lan Fridman Marco Ponti Sebastiano Barisoni Stefano Fassina Gianni Riotta e poi arriva a trovarci Enrico Mentana per fare un po' il punto su questo 2019 vi aspetto ti do in diretta la replica di Conte perché poco fa ha detto a proposito del decretone e in particolare sul reddito di cittadinanza ancora non c'è perché vogliamo fare le cose per bene e quindi capito questo ha detto potremmo pensarci prima il premier grazie dopo la pubblicità come sempre l'area che tira voglio dare conto di un'altra dichiarazione arrivata poco fa prima parlavamo della polemica tra il libero il titolo di libero Di Maio il capogruppo alla camera del Movimento 5 Stelle D'Uva ha scritto libero non fa giornalismo via i fondi adesso io do un'opinione personalissima si può essere contro tutto però forse questa non è la posizione ma io guarda io ho sempre sostenuto che il pluralismo dell'informazione è il nettare che alimenta ogni democrazia quindi lasciamo perdere queste polemiche ognuno chiaramente è anche libero poi di criticare di commentare legare a questo via i fondi forse non è la posizione migliore comunque il libero è l'unico giornale che mese dopo mese cresce come numero di copie quindi ce la può fare benissimo quindi non avrà più bisogno di fondi bellini non avrà più bisogno di fondi bellini questa è bellissima è l'ennesima polemica quotidiana che serve a tirare avanti la giornata e campare andiamo avanti così senza ma idea di pari perché ognuno poi ha le proprie opinioni ed è bello poterle confrontare grazie a tutti c'è l'area che tira ci vediamo domani con il meglio di Coffee Break allora buon weekend grazie a tutti